Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Ebbene sì, alla fine il generale Vannacci ha scelto di scendere in campo e più precisamente di candidarsi per le elezioni europee. Se ne parlava da tempo, l'idea era nell'aria già da parecchi mesi e adesso abbiamo la conferma, una conferma data dallo stesso Salvini che ci dice che il generale Vannacci correrà le elezioni europee in quota Lega, nella Lega di Salvini, dove sarà presente in tutti i collegi. Dunque si corona il successo politico del generale Vannacci che adesso trasformerà le sue idee anche in prassi. Devo dire la verità che non mi stupisco molto che si candidi nella Lega, anzi mi pare piuttosto coerente la sua scelta, dato che il libro del Vannacci, Il mondo al contrario, è un libro liberale atlantista che critica certe derive dei costumi contemporanei e lo fa anche su punti condivisibili, anche se talvolta le tesi del generale sono espresse in modo e in forme non condivisibili. Quello che più volte ho sottolineato è del punto di critica che muovo al generale Vannacci, una critica pacata e riflessiva, è che egli non sottopone critica i due punti salienti del mondo rovesciato di cui siamo nostro malgrado abitatori. E questi due punti salienti sono il neoliberismo o turbocapitalismo assoluto per un verso e l'imperialismo atlantista per un altro verso. Questi due temi sono completamente elusi dal Vannacci che sul tema dell'imperialismo atlantista tace e invece per quel che riguarda il mercato si dice apertamente sostenitore del libero mercato, addirittura sostiene la tesi squisitamente neoliberale del trickle down e dello sgocciolamento. Dunque il libro del Vannacci è un libro neoliberale che critica alcune derive del mondo contemporaneo e ben si coniuga, credo, con l'impostazione liberale atlantista del partito di Matteo Salvini.